Sono Rodolfo Coccioni, professore ordinario di paleontologia presso il Stato di Dio. Siamo nel territorio dei Colli Albani, dei Naziani, un territorio prettamente geologico, costituito da salienti che hanno una relazione intima con il volcanesimo. La loro storia risale centinaia di miliardi di anni fa e la loro caratteristica chimico-fisica sono tali da permettere lo sviluppo di una viticoltura molto apprezzata che produce un ottimo vino, non necessariamente molto corposo. L'area che abbiamo visitato oggi in particolare è un'area che si caratterizza per la presenza geologica di sedimenti vulcanici, cioè sedimenti che raccontano la storia di un vulcanese, di un'attività vulcanica che si approcratta negli ultimi 300 anni.